Cina di San Valentino al bel sito Telle Due Torri, info e prenotazioni 0825 67 00 01 Continuo a non capire le domande che vengono vostre. Noi da qui alla Piazza del 27 faremo delle gare per il trasporto pubblico nella provincia di Avellino così come nelle altre province e qualunque player nazionale o anche internazionale potrà venire, partecipare alle gare, potrà vincere e quindi implicitamente rileverà i servizi di AIR e quindi conseguentemente il personale. Nel frattempo che si concretizza questo percorso di gare, diversi operatori sia per quanto riguarda i servizi su ferro quindi quelli di EO, sia per quanto riguarda i servizi su gomma, ci chiedono incontri per comprendere se è possibile costruire una strategia comune. Parlo per esempio dei francesi di RCT, che sarebbe l'azienda che gestisce la metropolitana di Parigi che hanno chiesto l'incontro per parlare con EO. Le contestano Presidente anche un'altra affermazione, cioè che l'AIR non sarebbe in grado di effettuare investimenti ma soltanto di gestire l'ordinario, non sarebbe così? Ma l'AIR, per presentare un progetto di investimenti in una fase di gara, dovrebbe avere un socio che ha la possibilità di investire in AIR e oggettivamente gli enti pubblici, regione Campania inclusa, non hanno questa grande disponibilità per ricapitare le aziende, capitalizzare le aziende. Ma mi pare un fatto accettivo, non è che sia un fatto... Grazie a tutti.